...reali che danno l'idea un po' di caos però, di un partito con Grillo che dice faccio io il segretario, Grillo che peraltro poi ne parleremo, ha ricevuto ieri nella sua casa di Bibbona Giuseppe Conte, abbiamo appreso dal fatto quotidiano di oggi, però io prima di diciamo di vedere tutti questi aspetti Cuperlo, cioè le sardine appunto e Grillo eccetera, le chiederei di rispondere anche all'analisi di Tito che dice ma io non l'ho capito perché si è dimesso Zingaretti che pure è andato in televisione, ieri le ha confermate le sue dimissioni come irrevocabili dalla D'Urso, secondo lei perché? Secondo me l'analisi di Claudio Tito è perfetta e con una formula retorica la verità è che Claudio Tito ha capito perfettamente perché Zingaretti si è dimesso e lo ha spiegato in quei pochi secondi. C'è un paradosso in questa vicenda, ho ascoltato adesso la registrazione di quella dichiarazione di Nicola, solo ascoltato perché il video non si vede ma d'altra parte siete nella sede del PD quindi difficile che funzioni qualcosa. Dicevo il paradosso è che tutti i passaggi anche più impegnativi dell'ultimo mese e mezzo, degli ultimi mesi direi, sostegno al governo Conte, il modo di affrontare la crisi di quella maggioranza, la scelta di di sostenere il governo di Mario Draghi, sono stati assunti dagli organismi dirigenti del PD alla unanimità, cioè io sono stato espressione con altre di una minoranza durante la stagione renziana e ci è capitato più volte nella direzione del partito, nei gruppi parlamentari, di votare in dissenso, di non condividere delle scelte che venivano compiute. Questa volta no, c'è un'unità formale evidentemente che ha portato alla condivisione di tutti i passaggi che sono stati assunti ma poi evidentemente c'è un tema che Claudio Tito ha fotografato in modo impeccabile che riguarda, ripeto, il modo d'essere, il modo di funzionare di questo partito. Claudio Tito diceva che le correnti esistono in tutti i partiti, sono correnti di idee e di potere, nel PD sono soltanto correnti di potere. C'è un punto che riguarda la natura e la funzione di questo partito, a me è capitato di dirlo così all'ultima direzione, quella di una settimana fa. Noi abbiamo vinto, peraltro in modo abbastanza rocambolesco, le ultime elezioni politiche nel 2006, poi abbiamo perso, nonostante una straordinaria campagna elettorale di Veltroni, le elezioni del 2008, abbiamo perso le elezioni del 2013, o meglio le abbiamo pareggiate, e poi abbiamo straperso le elezioni del 2018. Quindi 15 anni sono trascorsi, ma in questi 15 anni in cui nelle urne non abbiamo mai chiaramente ottenuto un successo, parlo delle elezioni politiche ovviamente, di questi 15 anni per oltre 11 anni siamo stati al governo e la sensazione alla fine è che lo stare al governo diventa da un mezzo, uno strumento decisivo per un partito politico, altrimenti si fa un'associazione culturale. Il fine è ultimo, starci a prescindere, mentre il tema è al governo con chi e per fare che cosa. Il potere rischia di diventare corrosivo se lo depuri da una capacità di dirti con chiarezza chi rappresenti e chi ti candidi a rappresentare, quale parte del paese. Dovendo parlare a tutti, questo è evidente, ma quale parte della società, quali interessi, quali bisogni anteponi e metti in testa alle tue priorità. È un modo di riconoscerti, di essere identificabile, riconoscibile. Detto ciò, faccio aggiungere solo una battuta. Il primo post, quello che ha annunciato le sue dimissioni di Nicola, conteneva anche un linguaggio, delle espressioni molto forti. Mi vergogno di un partito che da 20 giorni discute di poltrone, mentre gli italiani sono alle prese con la pandemia. Non è soltanto una critica, per quanto severa, vista la fonte, comunque già quello sarebbe stato un elemento di cui tenere conto. È quasi un epitafio, una iscrizione tombale su un partito politico. Si dice che qualche anno fa, parecchi anni fa, la Fiat progettò la più brutta vettura mai progettata da un'industria, credo si chiamasse Duna. Però una volta che la produssero e la misero in vendita, non è che a dire che era la vettura più orribile della storia fu l'avvocato Agnelli. Non sarebbe stata una cosa logica dal punto di vista, se non altro, dell'impatto sul mercato. E quindi è evidente che le parole di Nicola, meditate, sono state una ferita profonda nel corpo di questo partito. Ed è quello che richiederebbe, mi permetto di dire, anche se ho ascoltato solo l'audio, ma è come se l'avessi visto. Lo dico a Grillo, che non conosco, lo dico ai miei amici Sardine. Tutto questo richiederebbe anche una solennità del momento, una gravità di quello che stiamo vivendo. Perché, guardi, glielo dico a cuore aperto, questo non è soltanto un incidente di percorso nella vita di un partito politico. È qualcosa che può incidere il punto di portarlo ad un collasso strutturale, un crollo strutturale. Sono parabole che abbiamo visto anche di recente. I socialisti francesi sono precipitati al 6% dei voti alle elezioni per l'Assemblea nazionale. Io non faccio una previsione, tantomeno una profezia. Voglio dire che di fronte ad uno strap, una ferita come quella che si è determinata, noi abbiamo anche il dovere, ciascuno di noi, per la sua minima parte, di garantire la serietà, il rigore con cui affrontiamo questa discussione. Io mi auguro, mi sono augurato fino all'ultimo che Nicola rivedesse la sua opinione e posizione e non escludo che possa avvenire ancora. Nonostante le parole, lei dice nonostante le parole che ha usato ieri. Certo, aspetti perché voglio poi tornare da lei su che cosa può succedere. Nonostante l'esito c'è un punto... Sì, perché c'è questa distanza quando c'è l'audio, c'è un leggero ritardo. Comunque, torniamo subito dopo per vedere che cosa può succedere. Ma volevo andare dal professor...